La scuola universitaria superiore IUS, il comune di Pavia, hanno firmato un accordo quadro per la realizzazione e lo sviluppo di un nuovo campus universitario, CampIUS, e per lo sviluppo condiviso di strategie per il potenziamento dei servizi universitari e l'inclusione sociale. Rigenerazione urbana e nuove strutture per gli studenti, un binomio in cui questa amministrazione crede fortemente. Sì, l'abbiamo inserita nel contesto per quanto riguardava il nostro mandato e questo diventa un passaggio fondamentale per quanto riguarda la nostra città. Pensare al futuro, pensare ai nostri giovani, questa è una grande opportunità di rigenerazione di un pezzo di città abbandonato ormai da decenni, che viene recuperato, torna alla vita, crea ricerca, crea lavoro. Quindi questo interessa naturalmente a livello internazionale per quanto riguarda i corsi che vengono fatti. Questo è un ulteriore tassello che andiamo a mettere al posto giusto per la crescita e la conoscenza e la riconoscenza per quanto riguarda la nostra città. Pavia come polo attrattivo per gli studenti, non solo del territorio. Sì, questo credo che sia un tema ormai documentato da tutte le università del mondo. Le università sono dei centri di attrazione e portano nei luoghi, nelle città, giovani da tutto il mondo che possono contribuire allo sviluppo. Mentre molto spesso le università in alcuni paesi sono posti in cui si va a studiare e poi si va via. Qui vorrei che fosse il contrario. Va via deve essere un posto dove la gente viene a vivere, viene a investire, viene a creare progresso e benessere.